Sicuramente avrai familiarità con la seguente situazione. I requisiti per la documentazione del tuo lavoro stanno diventando sempre più importanti, sia per legge o per necessità operativa. Documentazione manuale con carta e penna costa molto tempo, lavoro e nervi saldi. Cosa fare? Valtra fornisce una soluzione per questo importante compito. La documentazione integrata con TaskDoc e TaskDoc Pro. Valtra TaskDoc è incluso in tutte le macchine Valtra con SmartTouch. TaskDoc ti consente di ricevere attività pre-pianificate dal tuo FMIS, sistema di gestione aziendale, e trasferirli tramite chiavetta USB al trattore. Al termine del lavoro otterrai i dati totali del lavoro svolto, come l'aria coperta e il consumo di carburante. Se il tuo trattore include già il sistema di guida automatica Valtra Guide, hai la possibilità di trasferire way line, confini e gli ostacoli dal tuo FMIS al trattore Valtra. Con TaskDoc Pro e Valtra Guide hai molte più opzioni disponibili. Per pianificare il tuo lavoro, utilizzi un FMIS web-based o una soluzione locale sul tuo PC compatibile con TaskDoc, AgriRouter o entrambi. Con TaskDoc Pro hai anche la possibilità di trasferire i confini e gli ostacoli di way line in modalità wireless dal tuo FMIS al trattore Valtra, anche da macchine di altre marche. Inoltre, TaskDoc Pro offre la possibilità di lavorare con il Variable Rate Control utilizzando TCGAO. Utilizzando uno standard ISO XML, si trasferiscono le informazioni dall'FMIS al trattore. Oltre alla trasmissione tramite chiavetta USB, è possibile trasferire i lavori tramite la rete mobile, o direttamente o tramite l'AgriRouter, pertanto puoi inviare o ricevere lavori in qualsiasi momento. Con TaskDoc Pro ottieni non solo i dati totali di un'area, ma anche i dati specifici dell'area. Questi vengono registrati ogni 5 metri. Tali informazioni provengono dal trattore e dagli attrezzi compatibili con ISOBUS e sono conformi al TCGAO. Una volta terminato il lavoro, può essere trasferito facilmente al tuo FMIS. In questo modo, puoi facilmente raccogliere la documentazione dei tuoi lavori. Quindi ci saranno meno scartoffie e avrai più tempo per altre cose. Grazie. 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 Grazie.